Buongiorno, eccoci qua, ben ritrovati, grazie per l'attesa, è tornato a trovarmi il dottor Francesco Garritano. Buongiorno dottore. Ciao Giorgia, ciao a tutti. Allora, il numero di telefono io lo lascerei sovraimpressione, anche perché se qualche signora, qualche signore all'ascolto, ha bisogno di chiarimenti circa quello che adesso il dottore ci spiegherà, potete farlo, approfittate nel caso di dirlo. Intanto, diciamo, proprio, ce l'hai già venuto a trovare, quindi un po' il tuo percorso l'abbiamo conosciuto, però per rispolverare un po' la memoria alla gente che ci segue da casa. Certo, certo. Allora, io sono nutrizionista, il mio studio principale è a Cosenza, c'è il studio Nutrilab, è il mio studio, diciamo, che è dove ci occupiamo di diversi casi, e da 3-4 mesi sono salito qui a Milano a fare studio, anche perché collaboro con il dottor Speciani, e che, diciamo, portiamo avanti la dieta Gift, che abbiamo parlato anche la volta scorsa, però è una dieta innovativa, che praticamente si basa sull'attivazione del metabolismo, e praticamente va a dare dei segnali giusti al nostro cervello per farci dimagrire in salute. Allora, ecco, bravo, intanto per farci dimagrire in salute, dunque, la mia difficoltà, perché sicuramente come me da casa avranno magari provato mille volte diverse tipi di diete, ma dottore, perché io devo scegliere la tua dieta, quella che tu promuovi e a cui tieni tanto, voglio dire, tu sei un promotore. Bravissima, Giorgia, perché la domanda viene a pennello, perché c'è, facendo studio e facendo molte consulenze, vedo che c'è una confusione sul concetto di dieta. Dieta è stile di vita e significa mangiare meglio, attivare il metabolismo, dare dei segnali buoni, cioè, per esempio, persone che non stressate dimagriranno con molta difficoltà, oppure persone che avranno resistenza insulinica, cioè, vuol dire che l'insulina non funziona, cioè, la fase del prediabete, diciamo, avranno difficoltà a dimagrire. Cioè, io prima devo cercare di fare il... Mettiamo un numero di TL, per favore, scusa, prego, così la gente vuole fare le domande e dopo non si ricorda. E cerchiamo di mettere, praticamente, il corpo in una situazione di, prima, come dico spesso, prima guarire e poi dimagriamo, cioè, prima riaggiustiamo la condizione organica e poi pensiamo a dimagrire. Quello che vedo spesso sono diete ipocaloriche, bastiamo troppo le calorie e così non va bene. E tu, invece, con questa dieta mi fai mangiare? Faccio mangiare forse di più rispetto... Ma anche i pizzoccheri? No. Eh, vabbè, allora ciao. Su questo discorso c'è da discutere. Buttiamo sulla qualità del cibo, ma si mangia molto di più nella dieta gift, soprattutto a colazione, meno a pranzo. Quindi a piramide, diciamo. Meno a cena, sì. Come dice sempre mia mamma, devi mangiare come... Allora, al mattino come il re, a pomeriggio come un... Principe, come si può dire. E la sera... Come poveri. Allora, aspetta un attimo, adesso tu mi dovrai dire, bene, farmi un esempio di questa dieta. Però prima sentiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno, signora. Buongiorno a lei. Buongiorno. Come ti chiami? Mi chiamo Angela. Vai, Angela. Pronto? Sento male. Prego, prego. Senta, no, volevo chiedere una cosa al dottore Garritano. Ora, io da un po' di tempo ho gonfiore, dolore e devo scappare in bagno quando mangio alcuni cibi. Mi hanno diagnosticato, mi hanno sospettato che possa avere una sindrome del colore irritabile. Però non mi hanno saputo dare tanti consigli da un punto di vista nutrizionale su come impostare la mia dieta, su cose liminarie, eccetera. Quindi volevo approfittare di questa occasione per avere, insomma, qualche notizia, qualche cosa che mi possa aiutare. Signora, grazie mille per la domanda, stia un attimino lì e sentiamo tra poco subito un'altra. Allora, prego. È giustissimo, purtroppo si fa diagnosi colore irritabile, che praticamente il nostro intestino, il nostro colon è infiammato. Però poi alla fine, dall'uscita dallo specialista, non diamo un regime alimentare da seguire. Io, per esempio, opero utilizzando i foodmap, che sono tutti i cibi che non fermentano, quindi eliminiamo la fermentazione. Pancia gonfia, dolori a volte scariche di arroi, che può essere anche la versione contraria a stitichezza. E rieducando il paziente, magari c'è anche una disbiosi intestinale, facendo una cura di fermenti lattici, di probiotici, facendo masticare meglio il paziente più lentamente, perché comunque la masticazione è un atto importante nel processo digestivo. Quindi, praticamente, puntare... Bisogna masticare lentamente, vero? Sì, 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 bisogna masticare lentamente. Non puoi masticare lentamente, certo, però... Bisogna triturare il cibo più volte, cioè non stare a tavola tanto, perché a volte si confondono le persone. Dico, stanno a tavola tre ore, però masticano rapidamente lo stesso, quindi puntare su queste cose qua. E quella, la signora che è chiamata, ha ragione, perché non danno nessuna guida. Intanto questo è il tuo sito, dottore, studionutrilab.com, clicca qui per una consulenza gratuita. Cioè uno può... Io rispondo, rispondo qui, sì, mi fanno tante domande, sì, su queste... Molto bene, molto bene. Allora andate, studionutrilab.com, un'altra telefonata. Pronto? Pronto. Salve, signora. Salve. Chi parla? Io sono Maria, chiamo da Settimo San Giovanni. Sì. E avrei una domanda per il dottor Garitano. Prego. Allora, io faccio le analisi per la celiachia, quindi anti-endomici, anticorpi anti-endomici, anti-transglutaminati, sono risultati negativi. Però io ogni volta che mangio glutine sto male a livello gastrointestinale, ho gonfiore, devo andare in bagno e vorrei qualche delucidazione a riguardo. Sì, ma grazie per la domanda, dottore. Allora, ha toccato un altro argomento molto importante, perché la celiachia è una cosa, sta invece emergendo i disturbi glutine correlati, quindi il fatto di mangiare glutine, a volte può, ci si parla di intolleranza al glutine, e quindi si parla di gluten sensitivity, cioè si può essere non celiaci, però il glutine può dare fastidio, infiammare. E quindi può dare gli stessi sindomi della celiachia, anche se non si è celiaci. Ma pensa a te, questa non la sapevo. Questa è una cosa che sta emergendo. La sensibilità, no, il glutine, io sento sempre più gente che dice che è intollerante al glutine, però magari non sei totalmente intollerante, ma hai questa predisposizione. Perfetto. Ma poi, ma tanti, anche giovani, ne sento parlare. Ma infatti, se parliamo di statistiche, parliamo dell'1% della celiachia, siamo arrivati quasi al 6% della gluten sensitivity. Quello che dico spesso ai pazienti è che è cambiato il grano. I grano sono sempre più ricchi di glutine, ormai se vediamo le spighe, vediamo spighe molto alte, mentre una volta erano spighe più basse. Se andiamo a vedere a livello proprio di genetica del grano, la genetica del grano è cambiata. Ci sono più frammenti immunogenici che determinano praticamente l'apertura delle maglie a livello dell'intestino e quindi si parla di apertura, quindi il glutine riesce ad entrare tranquillamente bene nell'intestino e causa un sacco di problemi. Allora, dottore, hai un minuto? La dieta tipo, che tu potresti dare a una persona media come me? Diciamo, una dieta per te. Grazie, bravo. Cominciamo. No, perché sai quante signore magari hanno quel problema di qualche chilo di troppo. Allora io dico, facciamo come dicevi tu, colazione da re, pranzo da principe e cena da poveri, quindi io faccio mangiare molta colazione facendo assumere magari della frutta, del latte vegetale, faccio mangiare dei carboidrati, quindi può essere il pane, gallette, ma tutto roba integrale, si può mangiare della marmellata senza zucchero e poi assumere l'uovo per esempio la mattina, che noi l'assumevamo già in tempi non sospetti, l'ovetto sbattuto, soltanto che ci mettevamo lo zucchero, però adesso mangiare un uovo la mattina, quindi fare una ricca colazione. Poi il pranzo, io faccio l'esempio del piatto che è diviso a tre, dove ci deve essere una parte del carboidrato, una parte della proteina e una parte della verdura. La parte della cena per me è povera, quindi basta un semplice secondo contorno, quindi una proteina e una verdura, ma che può essere anche una caprese, una cosa così. studionutrilab.com, fateci un giro, fate la vostra domanda al dottor Garittano per tutti coloro che non sono riusciti a mettersi in contatto adesso. Grazie per essere stato con noi, è già finita, è volata, è volata. Amici, ci vediamo stasera a 20.30, Antenna 3 con Sota e il Cielo di Lombardia, e domani alle 7 con Buongiorno Lombardia, linea allo sport. Grazie, ciao e guardate Milanao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!